Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. È un video brevissimo perché volevo solo dirvi che ho creato un nuovo gruppo Telegram dove ci saranno esclusivamente scambi per Rocket League. Al raggiungimento di 50 membri su questo gruppo farò un contest dove regalerò una macchina a mia scelta dal mio inventario e due esplosioni che sceglierò sempre io e le regalerò a uno di voi. Chi condividerà questo gruppo Telegram di cui andate in descrizione che c'è il link vi lascio tutto il necessario perché lì c'è già un messaggio. Lo metterò in descrizione il messaggio e lì ci saranno i passaggi che dovete fare. È semplice, condividere e fare. Ah, e scordavo anche entrare nel gruppo normalmente e condividere con tutti tutti i vostri amici. Grazie a tutti.